Zaniolo, notte di sushi e musical di premier ecco con chi e dove. Sono ore decisive per il futuro di Zaniolo. Il Bournemouth ha trovato l'accordo con la Roma per il trasferimento. Ora manca solo l'ok del giocatore che è ancora indeciso. Ieri sera al numero 22, Giallorosso ha cercato di distrarsi trascorrendo la serata nel locale Legami Roma dell'ex centrocampista della Juve Marchisio. Una cena a base di sushi, la specialità della casa in un ristorante frequentato molto dai calciatori. Zaniolo nel locale di Marchisio con Scamacca nel locale, come documentato sui profili social. Era presente anche Gianluca Scamacca. È probabile che l'attaccante del West Ham abbia parlato con Zaniolo della Premier e gli abbia dato alcuni consigli. Il noto ristorante romano ha pubblicato anche altre storie della serata danzante con musica dal vivo. Ma i due calciatori non si vedono. Anche Roberta Sinopoli, la moglie di Marchisio, ha ripostato la foto di Zaniolo sul suo profilo Instagram. Adesso il Bournemouth. E anche la Roma, aspettano la risposta del giocatore. Virgola. Quando ci vedo. E Li. Il. vote. E